No more weep No more weep Perché i diritti dei deboli vengano riconosciuti e fatti valere. Perché le differenze possano convivere e crescere. Perché ho voglia di legalità, di respirare giustizia. Perché io so cosa significa le voglie di speranza. Perché credo che Dio è sorgente della pace e gioisce della pace. Perché insieme è meglio che da soli. Ventitré anni dopo, la Marcia Nazionale per la Pace torna a Molfetta. Oggi più che mai ci è chiesto di continuare a camminare insieme. In piedi quindi, costruttori di pace, sarete chiamati figli di Dio. I'll be buried in my grave.